Oggi nel primo pomeriggio è morto padre Piero Gheddo, volto storico del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano. Aveva 88 anni, gli ultimi due passati in sedia rotelle nella casa di cura ambrosiana di Cesano Boscone, ma era ancora attivissimo, praticamente fino all'altro ieri quando è stato ricoverato per una broncopolmonite. L'ultimo intervento sul suo blog è di settimana scorsa e prende spunto dal viaggio del Papa in Myanmar e Bangladesh, terre che conosceva bene e che aveva raccontato in uno dei suoi innumerevoli libri e articoli. Sì, perché padre Gheddo era un missionario con la stoffa del giornalista. Tra i fondatori dell'EMI, la casa editrice missionaria che di recente aveva pubblicato l'autobiografia dell'agenzia stampa Asia News e di Manitese, è stato direttore di mondo e missione per quasi 40 anni, dal 59 al 94, e collaboratore di numerose testate, l'osservatore romano, famiglia cristiana, avvenire, lecco di Bergamo, ma anche rotocalchi per famiglie come epoca e gente. Originario di Tronzano Vercellese in Piemonte, entrò nel Pime alla fine della guerra e fu ordinato prete nel 53. Voleva partire per l'India, ma i superiori lo avviarono al giornalismo e così per l'osservatore seguì il concilio, dove fu perito per il decreto ad Gentes, sull'attività missionaria della Chiesa. Una passione lunga una vita, basta un frammento della sua testimonianza per il festival della missione di Brescia pochi mesi fa. Le missioni bisogna continuarle, perché bisogna portare Gesù a tutte le infinite schiere di popoli che non hanno ancora ricevuto il primo annuncio di Cristo.